Ciao a tutti, buongiorno o buonasera, secondo di quando starete guardando questo mio video e oggi devo assolutamente fare il video dei prodotti finiti che non è proprio più procrastinabile perché sono veramente piena di roba e non ricordo bene se è di un mese o di due mesi, ve lo lascerò nel titolo e ovviamente prima di iniziare vi ricordo, se volete, di iscrivervi al mio canale e di seguirmi anche sui social e sotto trovate tutti i link però soprattutto vi aspetto su Instagram perché lì cerco appunto di postare veramente molto spesso e quindi ci tengo che anche voi possiate condividere insieme a me ciò che mi piace detto questo, iniziamo con tutti i prodotti preferiti, non preferiti, bocciati, promossi di questo periodo dei prodotti finiti allora, iniziamo subito da questa meravigliosa crema per il corpo della marca Rituals se mi seguite sapete che io praticamente di questa marca adoro tutto da prodotti per la doccia, prodotti per il corpo Rituals è veramente ottimo per il packaging perché come vedete è veramente molto bello perché in ogni confezione trovate anche una frase relativa alla saggezza questa era la Balancing Body Cream con rosa indiana e miele dell'Himalaya e aveva un profumo ottimo, ottimo, ottimo si sente il profumo del miele però non è un profumo finto, stucchevole, dolce è perfetto buonissima che dire, io queste creme le ho già usate, riusate le compro, le ricompro perché poi non costano eccessivamente, mi sembra 6-7 euro insomma non è che abbiano un costo eccessivo però profumazioni e risultati top e poi vi parlo io che ho anche una pelle molto molto secca ma con questi mi trovo veramente benissimo questo quindi in particolare era il Ritual of Ayurveda ma ci sono veramente tante profumazioni e tante tipologie prodotto finito proprio proprio ieri sera ed è questa acqua micellare di Biotherm come vedete ha un packaging un po' particolare perché da questa parte è piatta mentre di qua è bombata e... a parte questo prodotto enorme è di... quanto è? io volevo dire la quantità ma non la vedo un po' perché è tutto trasparente cioè è fatto veramente strano non lo so, è strano che non c'è la quantità ma ci sarà scritta ma sono io che non la vedo comunque è un bel... ha 400 millimetri quindi vi dura veramente tantissimo non ne basta non ce ne vuole tantissima per struccarsi ottima, ottima, ottima sugli occhi io non l'ho provata perché io preferisco sempre utilizzare un prodotto specifico per gli occhi e poi per il resto del viso il prodotto appunto struccante però questa è veramente ottima anche sui rossetti tipo come questo che è... quello di famoso il Rubikoo di MAC toglie tutto quindi ottimo prodotto molto molto delicata perfetta poi questo prodotto era la prima volta che io provavo una crema corpo di questa marca Coco Cabana questa è la Coco Cabana Cream Sol de Janeiro l'ho trovata da Sephora credo che sia però una confezione da viaggio perché è veramente piccolissima infatti veramente mi è durata pochissimo a parte il packaging che è molto 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 carino secondo me non so mi dà un senso come di qualcosa di veramente molto molto giovanile un profumo speramente spaziale di cocco ed è un profumo di cocco tipo dirò di biscotto di cocco non è un profumo di cocco ovvio scontato chimico è ottima e appena la aprite la mettete sentite subito addosso questo ottimo profumo ma è ottima anche l'idratazione quindi credo proprio che prossimamente prenderò se c'è una versione più grande perché questa veramente mi è durata pochissimo questa è da infatti 75 ml credo sia la confezione da viaggio poi ho terminato questo tonico e non è la prima volta della marca Pixi questo era con la vitamina C e quindi era un tonico illuminante allora io non so mai cosa dire dei tonici nel senso li uso perché so che fanno bene alla pelle prima del siero dopo lo struccaggio però non so che dirvi se facciano chissà quale effetto perché cioè non lo vedo l'effetto io spero facciano bene come dicono però io lo uso perché è un prodotto che so che fa bene a usarlo nella skin care quotidiana o quasi quotidiana però comunque compro sempre questi di Pixi perché so che è un'ottima marca da questo punto di vista e comunque non mi dà problemi quindi la uso poi ho terminato ottimo ottimo spray per i capelli questo della Nivea Stronghold anche se è diciamo una tenuta media 3 su 6 e questo mi è piaciuto molto perché non appiccica eccessivamente diciamo che se c'è vento c'è comunque un tempo un po' così forse non tiene proprio perfettamente la tenuta dei capelli la piega però in generale a me piace perché non sento il giorno dopo il senso di appiccicaticcio o comunque di secchezza dei capelli quindi ottimo ottimo spray poi ho terminato questa maschera viso che è della marca opiarium ed è prodotto bio questa è maschera viso biologica anti età nutriente e illuminante questa andava stesa tenuta in posa e poi risciacquata con acqua calda allora il profumo di questa maschera era orrendo perché probabilmente anche per il fatto che è bio magari non contiene così tanti profumi sintetici quindi va bene come maschera come tutte le maschere cioè l'iperlissi che la togliete sentite questo senso di idratazione di freschezza però non so non riesco a dare neanche un giudizio sulle maschere perché non lo so problemi non me ne ha dati l'ho utilizzata tutta boh non so a che dirvi questo fatto comunque dell'odore un po' sgradevole un po' mi mi blocca quindi probabilmente insomma non la ricomprerò proverò altre maschere però boh io con le maschere ho un rapporto un po' di amore odio nel senso che anche lì so che fanno bene e infatti le uso però devo dire che non sono nemmeno così costante nell'utilizzarle perché a volte lo trovo proprio una pratica faticosa a fine giornata e magari rimando rimando quindi forse anche per questo che non riesco a dare un giudizio sulle maschere perché forse ecco non sono essendo molto costante non vedo questi risultati così ovvi però insomma il senso comunque di idratazione di freschezza ce l'aveva poi ho un balsamo allora io so che vi dico sempre mai più non comprerò mai più balsamo nella vita perché non mi piacciono preferisco le maschere però ho un balsamo perché avevo comprato praticamente questa confezione di due balsami e questo è il primo sto utilizzando il secondo ok questo è della Pantempro V rigenera e protegge aiuta a riparare i segni dei danni all'istante capelli deboli danneggiati devo dire questo mi è piaciuto stranamente questo mi è piaciuto devo dire anche che lo applicavo anche magari insieme ad una maschera quindi una piccola parte di maschera e anche questo però anche applicato da solo le prime volte non era male mi lasciava comunque i capelli piacevoli al tatto quindi questo è un balsamo che promuovo poi di nuovo Rituals e questa è una schiuma per la doccia questo è Ritual of Sakura e questa praticamente è la spuma e questo pure prodotto è fantastico a parte l'odore ottimo e persistente questa spuma è fantastica perché l'andate a spruzzare e sembra quasi un qualcosa tipo un gel liquido ma appena cominciate a strofinarla tra le mani si crea subito questa schiuma molto molto compatta che anche se ve la strusciate addosso per insaponarvi insomma mantiene questa compattezza cioè questi prodotti io li adoro sono veramente fantastici questo mi andava a riempire anche all'istante di questo profumo buonissimo tutto il box doccia quindi è veramente piacevole a fine giornata utilizzare questi prodotti che hanno questi odori così veramente buoni rilassanti ottimo ottimo prodotto questi prodotti Rituals io ve li consiglio tutti potete anche comprare gli occhi chiusi che tanto sono buoni tutti poi ho questa crema per il viso che mi è piaciuta tantissimo allora questa è della Origins e marca Origins e la nome è il Ginzing praticamente è una crema ultra idratante e che dà molta molta appunto energia al viso e quindi energizzante mi è piaciuta tantissimo perché è agli agrumi e io adoro il profumo degli agrumi questa è una cosa di mandarino tantissimo e proprio appena la mettevo proprio la sentivo subito sentivo subito questo profumo di mandarino e la mattina utilizzare queste cose degli agrumi a me sveglia sveglia subito quindi ottimo ottimo prodotto l'ho adorato ovviamente deve piacervi il profumo degli agrumi perché altrimenti lo odierete ottima anche la crema devo dire questa marca credo di non averla mai utilizzata prima mi è piaciuta veramente tanta tanto anche se è solo da 50 millimetri quindi è un barattolino piccolino però non ce ne guarda tantissima e quindi insomma dura anche un bel po' ma questo profumo di mandarino eccezionale veramente eccezionale poi crema contorno occhi stra adorata di questa marca Dr. Organic non era la prima che provavo anche se avevo provato altre tipologie però secondo me queste creme contorno occhi Dr. Organic sono fantastiche questa era alla canapa bio all'olio di canapa bio ed era un po' un ziero intenso per gli occhi con tè verde e l'estrato di ginkgo è ottime danno veramente subito questo effetto molto idratante molto lisciante cioè sono prodotti veramente ottimi quindi anche questo super super promosso e anche di questo non ce ne vuole una grandissima quantità quindi dura veramente anche tanto e nonostante sia solo 15 millilitri credevo di metterci chissà quanto ad utilizzare questo doccia schiuma ma in realtà mi è finito velocissimamente perché l'ho adorato allora questo packaging mi piace è la prima volta credo di utilizzare appunto questa marca la spuma di champagne e questa è il bagno dolce a crema idratante con latte di mandorla e burro di karité buono mi è piaciuto tantissimo profumo ultra ultra leggero e delicato io magari preferisco i profumi più intensi però anche questo non era male ottimo prodotto è piaciuto ovviamente è un prodotto anche molto economico perché l'ho preso al supermercato ma costava pochissimo mi è piaciuto sì sì ottimo nonostante io non ami i prodotti con questo packaging grande perché ci metto troppo a finirli e a me piace cambiare però questo non mi è durato tantissimo forse perché ha una consistenza molto molto liquida e quindi magari si usa un po' più rispetto a un prodotto un po' più denso però mi è piaciuto vi stupirete ma ho solo una confezioncina di dischetti di questi piccoli della cotoneve con l'acqua termale perché ho scoperto i quadrotti quelli di tessuto per struccarsi quindi per me da questo momento in poi i dischetti serviranno solo per togliere lo smalto dopodiché io userò questi quadretti sono tipo più lusciosi ottimi perché si lavano in lavatrice si usano uno al giorno quindi sono anche igienici tolgono tutto anche solo con l'acqua ottimi fantastici una scoperta quindi ho solo questi poi ho finito questa matita di inarze per gli occhi che ce l'avevo da una vita questa era la night serious eyeliner erano dei colori un po' scuri tipo glitter con dei glitter che però ovviamente i glitter li vedete solo perché poi una volta messi sull'occhio non è che si vedevano molto questa se non sbaglio era quella sul blu queste matite mi erano piaciute molto proprio perché erano molto morbide quindi erano molto piacevoli da stendere qui aveva anche il suo temperino incorporato erano di quelle appunto automatiche erano piacevoli sì perché erano molto molto morbide e quindi facilmente da facile da usare per fare le codine e quindi sì queste mi sono piaciute poi quando vedo le cose glitterate a me piacciono poi ho terminato questo olio di cocco che io avevo preso per cucinare poi però mi sono resa conto che secondo me l'olio di cocco non è proprio l'ideale da un punto di vista della salute perché contiene praticamente su 100 grammi il 95 95 grammi di grassi saturi che sono quelli che fanno male quindi cioè questo fa male per cui l'ho utilizzato sui capelli e questo l'avevo preso su un sito bio ed è vita che è ma comunque è olio di cocco ma insomma a me questo prodotto non ha affatto impazzire né per cucinare né per i capelli ma così come anche avevo preso un'altra volta coco fresh insomma quelle cose che pubblicizzano gli influencer che non mi era piaciuto assolutamente questo idem non so secondo me non ha tutti questi benefici sui capelli che tanti decantano ma io preferisco molto di più applicare una maschera prima di lavarli lasciarla in posa un'ora due ore quello che è e secondo me fa molto più effetto di questo io non non ho visto tutti questi grandi risultati e poi comunque è scomodo perché con il freddo diventa denso quindi dovete sciogliere tra le mani ci sono comunque dei pezzettini dei grumi non lo so non mi fa impazzire fondotinta stra stra adorato close up di Nabla mi è piaciuto tantissimo la mia colorazione era ovviamente in light io non mi sbaglio mai su fondotinta quello è più chiaro di tutti sempre ovviamente e questo è il weightless soft focus perfect complexion ottimo leggero ma coprente quindi questo ha praticamente tutto quello che si chiede a un fondotinta leggero quindi non effetto mascherone ma coprente cioè bello bello è piaciuto tantissimo ottimo prodotto devo buttare e questi smalti in generale mi hanno veramente molto molto delusa ovviamente io li avevo presi per il packaging perché il packaging è fantastico e costano pure tanto avevo preso una confezione che ne conteneva un po' di questi smalti non ricordo quanti questo in particolare è il beach melba ed era questo nude delicato ma a parte che si sbeccano subito cioè tutta la vita smalti kiko secondo me perché quelli della kiko a parte qualche eccezione sono ottimi questo si sbeccano subito tutti ma poi guardate cioè già questi li ho comprati molto dopo altri smalti kiko che ho e che ancora uso e che sono immacolati questo è tutto completamente secco per fortuna che comunque l'avevo già utilizzato un bel po' come vedete quindi però cioè delusione totale su tutta la linea questi smalti secondo me non valgono assolutamente il prezzo così come non so i prodotti labbra land crime non mi fanno impazzire diciamo che di lime crime mi piacciono solo le tinte le unicorn hair quelli sì tanto ma questi prodotti labbra anche questo lo avevo preso perché era questo colore questo è praticamente il siren ed era per fare un effetto un po' strobing un oro rosa e quindi andava applicato sopra magari anche tipo anche a ruby uno per dare un punto luce e quindi rendere magari le labbra anche più luminose più grandi però comunque devo dire che l'ho utilizzato un bel po' è realmente rimasto pochino però si è seccato no non è possibile perché non ce l'ho da tantissimo tempo sarà un annetto e si è tutto completamente seccato quindi non si può applicare perché vi parte a pezzi essendo secco quindi non si va neanche a stendere in modo omogeneo quindi questo lo devo buttare e mi dispiace perché comunque il packaging è molto molto carino l'effetto finché funzionava era veramente carino leggero delicato però molto meglio di un gloss perché i gloss tendono comunque a sciogliere un po' il rossetto sottostante questo no era come una tinta lo applicavate rimaneva un pochino appunto lucido tipo con qualche glitter ma non era uno glitter era proprio luminoso carino creava proprio questo effetto rimpolpante però purtroppo si è tutto seccato quindi carino finché è durato però un po' deludente e poi ho terminato questa mini size di urban decay del lip junkie questo è il cool and plumps questo praticamente era tipo un gloss che era contenuto se non sbaglio nella naked 1 e l'ho terminato orgogliosa allora il tagging è molto molto carino perché urban decay ha questo fatto di avere questi tappini intagliati molto molto carini secondo me e l'ho finito mi è piaciuto mi è piaciuto anche se era un po' appiccicaticcio però mi piaceva tantissimo il profumo ha un profumo tipo di menta che non è che mi faccia impazzire però questo si perché era molto molto delicato non lo so mi piaceva anche appunto se era un po' appiccicaticcio però mi piaceva non lo so mi piaceva forse perché adoro tantissimo la naked 1 e quindi mi piaceva anche questo come effetto di transizione anche il fatto che mi piacesse una cosa e quindi ho traslato il mio piacere anche su questo non lo so fatto sta che i prodotti finiti sono finalmente finiti ve l'ho detto ce ne avevo veramente tantissimi però soddisfatta perché alla fine di bocciati non ce ne sono tantissimi e e niente siamo arrivati alla fine finalmente di questo video quindi vi ricordo di seguirmi sui social e soprattutto instagram e trovate il link sotto e poi se vi va iscrivetevi e niente noi ci vediamo al prossimo video e ciao ciao